Ciao a tutti ragazzi da Alessia, Alessia Napoletana 91, ciao a tutti ragazzi Benvenuti in questo mio nuovo video Allora, in questo mio nuovo video volevo parlare che ieri è riniziata e incominciata la Champions League e non vedevo l'ora perché è una delle competizioni che più mi piacciono nel calcio perché ovviamente ci sono tutte le squadre di tutti i campionati quindi mi piace tantissimo la Champions ogni anno l'aspetto con molto molto rigore e sono stata contenta che è ricominciata Allora, nel debutto ci sono stati Borussia Dortmund e PSG contro il PSG e Atletico Madrid-Liverpool ovviamente mi auguro che l'anno prossimo il Napoli ci sia di nuovo in Champions vedete che ci siamo in Champions ormai da tanti anni e se non ci andiamo è una bella mazzata perché sono tanti anni che ci andiamo consecutivamente quindi sarebbe una bella mazzata per il Napoli però se poi dobbiamo andare in Europa League o non andare in nessuna competizione sarà dura ma ci dobbiamo forza stare purtroppo questa annata è andata così io penso che il Napoli non ci vada perché il quarto posto è molto difficile l'Atalanta non molla e sta a più 11 su noi la vedo molto dura ebbene bene andremo in Europa League non mi piace tantissimo l'Europa League rispetto alla Champions penso che meno visibilità, meno squadre importanti, meno anche soldi che entrano e il trofeo è meno importante però si prende quello che passa, ecco diciamo speriamo bene, forse non per esempio detto questo parliamo delle due partite della bellissima partita io le ho viste entrambe le ho viste entrambe perché avendo Sky mi dividevo tra le due partite mettendo in live quindi ho visto tutte e due e c'era anche a Canale 5 quella dell'Atletico con Liverpool però io le ho viste su Sky entrambe con i migliori momenti live che si alternano tra le due partite quindi mi è piaciuta tantissimo Borussia Dortmund di PSG un po' meno Atletico Liverpool mi è piaciuta di meno perché? Perché l'Atletico è stato un catenaccio fatto il gol dopo poco si è chiusa invece Borussia Dortmund di PSG è stato 2-1 ma tanti gol, cioè tanti gol, tanto spettacolo e poi il Borussia Dortmund mi piace tanto come gioca parliamo prima del Borussia Dortmund PSG finita 2-1 per il Borussia Dortmund sono stata molto contenta perché il Borussia se l'è meritato questa vittoria se l'è meritata e poi perché il PSG negli ultimi anni mi sta un po' sulle scatole quindi sono stata contenta e ho tifato Borussia e ha segnato una doppietta il pazzisco e fenomenale Holland Holland come si vuol pronunciare precisamente un gol a 69esimo e l'altro gol a 77esimo e quindi ha fatto una grandissima doppietta e per il PSG è segnato Neomar a 75esimo ma devo dire la verità se giocata allo stadio ovviamente questi erano gli ottavi di finale di Champions League andata questa è l'andata poi ci sarà il ritorno e si è giocata allo stadio Signal Iduna Park lo stadio del Borussia che è uno stadio bellissimo grandissimo e mi piace tantissimo come stadio e poi è sempre pieno i tifosi sono molto caldi il Borussia nonostante Angloro hanno avuto tante perdite i giocatori se ne sono andati i tifosi sono molto calorosi e poi è un bellissimo stadio veramente mi piace tantissimo e che dire l'ha risolta e l'ha vinta un fenomenale e pazzesco Holland che è un ragazzo che a solo 19 anni sta dimostrando di avere personalità, carattere e tecnica è un giocatore pazzesco veramente il PSG è stato vicino spesso al pareggio c'è da dire che nel secondo tempo il PSG dopo il gol di Nevar e anche dopo i 2-1 del Borussia è stato vicino spesso al pareggio però comunque il Borussia nei 90 minuti l'ha meritata perché con Super Holland ha giocato una partita pazzesca in attacco ma anche a difendere a volte quindi se l'ha meritata devo dire la verità ragazzi se vogliamo parlare di questo ragazzo è stato il debutto in Champions con il Borussia Dortmund ex giocatore di Salzburgo che ci ha segnato anche al 9 del Napoli giocava benissimo anche nel Salzburgo e io dicevo sempre magari un giorno in Napoli se io lo comprasse e invece non l'abbiamo comprato per pochi soldi perché comunque non è andato per tantissimi soldi neanche 30 milioni mi sembra neanche pochi soldi è andato al Borussia ci ha provato la Juve e non è andato in Porto ringraziando il cielo dico io non è andato in Porto perché già c'era Ronaldo ci mancava solo Holland con la Juve ecco diciamo anche se sinceramente io fossi stata nella Juve ci avevo provato di più ragazzo giovane 19 anni rispetto a un Ronaldo già più grande d'età e fortunatamente non è andato Erling Holland che vogliamo dire di questo ragazzino della Scandilandia Scandilavia che cosa vogliamo dire di questo ragazzo della Scandilavia della Scandinavia e 10 gol in 7 partite di Champions League 8 gol in 305 minuti in Bundesliga fa un gol in pratica ragazzi fa un gol ogni 38 minuti e ha fatto le solde a 19 anni con una doppietta al PSG in Champions era il debutto della Champions con Borussia dopo che l'anno scorso è stato a Salzburgo dove ha fatto Europa League eccetera eccetera e è stato il ragazzo più giovane a raggiungere questa cifra a 19 anni dopo Mappé del PSG quindi ragazzi solo applausi per questo ragazzo che è veramente fenomenale e veramente non sono più aggettivi per riscrivere veramente il Borussia ha fatto una grande fortuna comprandolo perché si è assicurato per tantissimi anni un fenomeno un attacco e ha anche molta personalità perché comunque ai 19 anni dopo Mappé a fare una doppietta in Champions al debutto cioè non era una cosa di tutti i giorni ecco diciamo quindi quando poi sento e abbiamo visto che Napoli ha preso alloggiano per 50 milioni un pacco questo ragazzo invece è 19 anni e non 22 quanti anni ha loggiano e pochi soldi rispetto a noi e deve fare queste cose in Champions mi viene da piangere detto questo meno male che è andato in Bundesliga e non in Italia dalla Juve o altro perché sennò era finita e ragazzi è pazzesco io l'ho visto giocare quando giocava contro di noi con Salisburgo ci ha anche segnato sempre e ho sempre detto che era un fenomeno al ritorno non sarà facile perché ovviamente bisogna giocare in casa del PSG a Parco dei Principi e lì è difficile un campo difficile comunque ha fatto un gol fuori casa il PSG comunque ha fatto solo due gol il Borussia se ne faceva tre era finita ma quindi è ancora riaperta la qualificazione al ritorno in casa del PSG a Parco dei Principi a Parco dei Principi e quindi è aperta ancora perché comunque ha fatto un gol fuori casa che è importante eccetera però se il Borussia e a Holland questo ragazzo giocano così anche in casa del PSG non ce n'è per nessuno e passa il Borussia se giocano così e se Holland di nuovo fa la differenza se invece prende in mano il PSG la situazione è dura sinceramente non ha giocato né Cavani né Cardi non capisco la scelta dei allenatori perché avrebbe messo uno di secondo tempo avrebbe messo uno tra i Cardi e Cavani i Cardi è forte Cavani con i Cardi trova ancora meno spazio io penso che a Giugno si parla di Cavani all'Atletico può essere all'Atletico Madrid perché gioca ancora meno dipende se il PSG vuole far rimanere i Cardi o lo rimanda all'Inter se l'Inter lo vuole se il PSG lo vuole quindi dipende da quello se no Cavani se ne va già così gioca poco se invece i Cardi se ne va Cavani rimane ma io penso che i Cardi penso che credo che i Cardi ritorna all'Inter perché comunque forse non credo che il PSG lo riscatta dipende non lo so da tante cose fattori dipende anche dal giocatore comunque Cavani penso che vada via si è un po' stancato di Stirli in effetti Cavani nel PSG non ha fatto la differenza pochi golli in Champions mi aspettavo di più Cavani nel PSG e in campionato un campionato abbastanza ridicolo con la francese quindi Cavani sinceramente ha poco brillato mi aspettavo di più soprattutto in Champions i Cardi i Cardi invece è molto forte ha fatto tanti golli in Champions agli ottavi e al girone diciamo e anche in campionato e quindi vediamo ancora tutto aperto questa qualificazione forza Borussia Dortmund forza Holland mi piace tanto il Borussia e questo giocatore il Borussia è quello che diciamo ha eliminato all'Inter che è passato il Borussia ma il Borussia a differenza dell'Inter l'ha fatta solo con l'esperienza perché il Borussia è stata tanti anni in Champions ormai è un po' collaudata e che diciamo l'Inter ha peccato solo che in Champions non c'è andato da un po' di tempo è ritornata un po' di inesperienza vedremo parliamo dell'altra partita ragazzi l'altra partita al banda metropolitano è stata Tretico Madrid Livre e poi finita 1-0 per l'Atletico con gol di Saúl dopo 4 minuti al quarto minuto c'è poco da dire di questa partita perché io l'ho vista tutta e dopo il gol la squadra di Simeone dopo appena 4 minuti ha fatto un super catenaccio è stato il secondo tempo 50 minuti ad attaccare solo il Liverpool ma c'era un catenaccio c'era un pullman della Tretico nella porta della porta del Liverpool quindi sinceramente nella sua porta quindi era molto difficile segnare per loro veramente un catenaccio incredibile ma la squadra di Simeone della Tretico ha sempre giocato così ha fatto un super catenaccio ha fatto un super difesa ha sempre giocato così la squadra di Simeone e la Tretico ha sempre giocato così non mi piacciono tanto le squadre che fanno catenaccio e contropiede perché c'è poco poco gioco pochi gol è abbastanza un mortorio noi lo sai è brutto vincere così ma è brutto qua si porta i risultati perché se poi tu vinci la Champions così hai portato la Champions però a livello spettacolare non è granché la Champions è bello vedere gol spettacoli ecco quindi mi ammorba un po' e mi mi diciamo stanca un po' il modo di giocare che ha la Tretico di Simeone quindi la qualificazione è aperta perché comunque nonostante la vittoria della Tretico devono andare in casa del Liverpool e lì è uno stadio difficile Napoli-Lausanne ad Anfield è uno stadio difficile bellissimo stadio i tifosi sono incredibili e noi ci siamo stati abbiamo sempre perso in casa del Liverpool o pareggiato vinto mai perché è uno degli stadio più difficili d'Europa quindi è del mondo direi quindi è tutta aperta ha fatto solo un gol la Tretico e non due o tre e sì l'unica cosa buona è che non ha preso gol però sinceramente è tutta aperta la qualificazione se l'Atletico Madrid in casa del Liverpool non mette dieci in pullman davanti alla porta che il Liverpool non riesce a fare manco gol e fice 0-0 e passare l'Atletico secondo me il Liverpool la ribatte e passa quindi secondo me può passare ancora il Liverpool probabilmente passerà il Liverpool nel secondo tempo ha attaccato molto molto gli è mancato solo il gol per fare il pariggio e anche la vittoria primo tempo la fortuna dell'Atletico si è messa la partita come voleva perché ha segnato dopo appena 4 minuti e si è messa tutta in discesa per l'Atletico si è messa come voleva lui la partita quindi secondo me il Liverpool può passare ancora passerà probabilmente se non fanno dieci pullman e invece per quanto riguarda Borussia PSG non lo so perché ha fatto due gol il Borussia però non ha preso uno in casa PSG pure è tosta al ritorno metteranno Cavani Cardi Neymar si stanno in casa quindi lì non lo so chi può passare tra il Borussia e il PSG mi auguro il Borussia ma non so sinceramente chi passerà qui secondo me il Liverpool la ribatta detto questo ragazzi fatemi sapere che cosa ne pensate di queste due partite di Champions di questo debutto di queste due partite di Champions League che è ritornata viva la Champions viva viva il calcio e fatemi sapere che cosa ne pensate secondo voi chi passerà tra Atletico e Liverpool e tra Borussia e PSG e che cosa ne pensate di queste due partite se sarà giusto la vittoria dell'Atletico e la vittoria del Borussia ci vediamo nel prossimo video ragazzi viva il calcio viva la Champions adoro stasera ci sarà Atalanta Valencia il debutto dell'Atalanta agli ottavi di finale di Champions League è andato ovviamente e forza Atalanta perché io ovviamente tifo le italiane forza Atalanta forza Dea forza Gasperini e battete questo muro spagnolo del Valencia Valencia e speriamo che passa perché è un italiano ovviamente forza Atalanta sinceramente alla portata l'Atalanta sta in casa secondo me vince l'Atalanta sta in casa il Valencia fuori casa può soffrire e l'Atalanta ha dimostrato che se la può combattere contro chiunque in Champions nessuno gli dava un euro che passava il girone ne manco io e quindi mi ha sorpreso quindi forza Atalanta il Valencia è molto tosto in casa perché lo stadio è una squadra spagnola le squadre spagnole sono molto difficili e in casa sarà difficile batterla per l'Atalanta sarà difficile battere il Valencia in casa loro però che tu vinci 3-1 2-1 in casa tua Atalanta comunque devi andare lì con un buon risultato quindi devi prendere pochi gol l'Atalanta e farli molti vedremo forza Atalanta forza Dea e speriamo bene secondo me l'Atalanta vince 2-3-1 e poi in casa del Valencia Valencia vincerà però non basterà il risultato perché l'Atalanta ha già fatto bene qui quindi in bocca al lupo a Gasperigno ci vediamo nei prossimi video ragazzi sempre forza Napoli forza Ringo forza Gattuso ringhiamo ecco perché ovviamente sempre e noi debutteremo fra una settimana Napoli-Barcellona a Stato San Paolo contro Messe e compagnia Dio mio già tremo perché il Borussia il Barcellona è fortissimo parliamoci chiaro a livello tecnico-tattico c'è differenza c'è proprio tanta differenza tra Napoli e il Barcellona c'è ora solo un miracolo per passare però l'importante basta l'impegno e vedere spettacolo poi se viene un buon risultato bene se no forza Napoli sempre nella gioia nel dolore forza Napoli sempre nel cuore che siamo fatta anche rima quindi vediamo quello che esce mi va bene tutto ci vediamo nel prossimo video ragazzi sempre forza Napoli ciao a tutti ragazzi ciao a tutti